Ben trovati in nuova edizione del nostro telegiornale La Cronaca in primo piano. Torniamo a parlare dell'omicidio del 23enne Dario De Gennaro avvenuto in un appartamento a Molfetta nel Barese. Secondo quanto ricostruito finora il delitto sarebbe avvenuto al culmine di un'accesa discussione forse legata a traffici illeciti. Sono sconvolti i residenti della zona. Una comunità sconvolta si sveglia così Molfetta all'indomani del ritrovamento del corpo di Dario De Gennaro, il 23enne assassinato nelle scorse ore, la cui scomparsa era stata denunciata negli scorsi giorni. L'uomo è stato ucciso con diverse coltellate che lo hanno raggiunto al collo e al torace. Il suo corpo è stato trovato dopo che il presunto assassino Nofrio De Pasquale di 29 anni si è costituito ai carabinieri e ha confessato il delitto avvenuto nel suo appartamento nel quartiere Immacolata. Non si conoscono ancora le motivazioni che hanno portato al folle gesto. Secondo quanto ricostruito finora il delitto sarebbe avvenuto al culmine di un'accesa discussione forse legata a traffici illeciti. Il cadavere è stato trovato riverso sul pavimento dell'immobile in cui sono in corso i lavori di ristrutturazione. Una vicenda ancora tutta da ricostruire. Adesso la gente, i ragazzi, i giovani vanno tutti con i coltelli e le pistole in tasca. Questa giovedù sta troppo sballata. Mi dispiace tutto il cuore. Come se fosse un figlio mio. Perché io ce l'ho dei figli di quell'età. Non si fanno queste cose. In giro stanno dicendo che erano amici. A riguardo che erano amici loro, lui l'ha trattenuto qui in casa. Ecco perché il ragazzo non si trovava. Comparsa in paese si sapeva che si mancava questo ragazzo. Da qualche giorno avevano fatto. Perché poi il quartiere è piccolo, la gente mormora. Il 29enne si trova ora in carceri a Trani. Sta collaborando con gli inquirenti e fornendo informazioni utili alla ricostruzione dell'accaduto, come dichiarato dal suo legale. Sconvolto anche il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini. Due famiglie, due vite spezzate da questa violenza, qualunque sia il motivo che l'abbia generato. Ecco perché la mia chiamata ha un'etica della non violenza. Siamo nella città di Don Tonino Bello, che appunto diceva che l'ombro di Caino deve suscitare in tutti noi uno stimolo all'etica della non violenza. L'autopsia, disposta dalla procura di Trani, sarà eseguita nei prossimi giorni. E con l'accusa di tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso, sono stati arrestati tre presunti responsabili della sparatoria San Girolamo a Bari. Prima la lite in discoteca, poi l'inseguimento in auto e l'esplosione di diversi colpi di pistola. Una scena da far west, quella che si consumò la notte del 21 gennaio scorso tra le vie di San Girolamo, quartiere periferico di Bari. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, alcuni ragazzi, dopo aver trascorso una serata in una discoteca, per futili motivi si sarebbero fronteggiati. Uno di loro sarebbe stato malmenato da un minorenne, noto già agli investigatori. Il ferito, nonostante alcune tumefazioni riportate durante la colluttazione, avrebbe preferito non ricorrere alle cure mediche e per vendicare l'affronto subito, insieme ad altri due ragazzi a bordo di un'autovettura, avrebbe cercato di intercettare il gruppetto antagonista, salito a sua volta su un altro mezzo con a bordo il minore. Dopo una serie di sorpassi azzardati lungo il percorso, gli aggressori sarebbero quindi riusciti a intercettare e bloccare il mezzo in fuga. Qui avrebbero cercato prima di far scendere il minorenne dall'auto, poi avrebbero esploso nove colpi di pistola. Le indagini, avviate nelle fasi immediatamente successive all'evento, sono state supportate dalla visione delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza cittadine e private. L'ascolto poi di testimoni oculari che hanno consentito di identificare i giovani ritenuti responsabili della sparatoria. I tre sono stati quindi arrestati e accusati di tentato, omicidio aggravato dal metodo mafioso. La politica a tavolo del centro-sinistra per le comunali di Bari. Il Movimento 5 Stelle rompe con il PD e ribadisce il nostro candidato, è La Forgia. Nessuno scioglimento del nodo tra i nomi dei due candidati sindaci alle prossime comunali a Bari. Il PD pugliese insiste con le primarie per risolvere la contesa tra i due candidati, Vito Leccese e Michele La Forgia. La proposta è stata avanzata nelle scorse ore durante il tavolo politico del centro-sinistra. Ogni forza politica, dichiarato il segretario regionale Dem, Domenico De Santis, a margine del tavolo, si è legittimamente posto due candidati. Ma oggi il PD e altri soggetti hanno chiesto questo meccanismo per tenere la coalizione unita. Dobbiamo rispondere a questi appelli. I giorni scorsi Michele Emiliano, Nichi Vendola, gli intellettuali di sinistra barese hanno chiesto le primarie per unire la coalizione di centro-sinistra. E oggi, come PD, ma anche altri soggetti e forze politiche hanno chiesto di fare le primarie per tenere la coalizione unita. Ma tutti quanti stasera stanno dicendo che è importante tenere la coalizione unita. Dice no, rischia di dividere la coalizione. Il Movimento 5 Stelle ripadisce invece il sostegno a Michele Laforgia, unico candidato secondo il Movimento, che risponde ai requisiti di rinnovamento, rigenerazione e allargamento. Purtroppo la candidatura di Leccese non risponde a questi requisiti, ma già due mesi fa era stata sottoposta al Movimento 5 Stelle e su questa avevamo già posto delle perplessità. Ecco perché ad oggi l'unica candidatura che risponde a quei requisiti e che sicuramente per noi può essere garante di unità, di garanzia anche di allargamento della coalizione, ma anche di rinnovamento della classe dirigente per continuare il buon lavoro fatto dalle amministrazioni De Caro. Ecco, crediamo che sicuramente l'Avvocato Laforgia abbia tutti questi requisiti. Si chiama Lucani Uniti, il nuovo polo civico presentato questa mattina a Potenza che ambisce a diventare un'alternativa al centro-destra e al centro-sinistra in vista delle prossime elezioni regionali in Basilicata. Rappresentiamo la società civile che non ne può più delle oligarchie dei partiti. Si sono presentati così a Potenza i fondatori del polo civico Lucani Uniti, le unata realtà che parteciperà alle prossime elezioni regionali della Basilicata. Si tratta di un polo che si colloca nello scenario politico regionale come espressione della società civile con un progetto alternativo al centro-destra e al centro-sinistra sia per contenuti che per modo di fare politica, hanno spiegato i referenti durante una conferenza stampa che si è svolta nel Palazzo del Consiglio regionale di Basilicata. Idee chiare sul programma e su come basare il percorso che porterà al voto, concetti espressi chiaramente e visivamente nel logo che è stato scelto per Lucani Uniti. Un'immagine, hanno sottolineato, che esprime la sintesi del relativo progetto politico. Infatti, la stretta di mano sui territori delle due province rappresenta una solida unione tra Matera e Potenza per vincere le sfide del futuro, mentre il nome è Lucani Uniti e l'incipit dei traguardi da raggiungere, hanno spiegato. Il primo punto del nostro programma è semplice, unire Matera e Potenza abbattendo lo storico gambanilismo che non è utile alla regione Basilicata. Secondo punto, autonomia differenziata. Siamo inflessibili su questo argomento, che è una questione importantissima per il futuro della Basilicata e del Sud. Affermo con certezza categorica e matematica, anche a fini didattici, nei confronti di chi non vuole comprendere, che l'autonomia differenziata, così come è stata concepita, è incompatibile con la Costituzione Repubblicana. Terzo, candidato presidente. Noi stiamo facendo un percorso al contrario, diverso da quello che sta facendo ha fatto il PD, con Casa Comune. E qual è il percorso? È quello di mettere insieme tutte le forze e scegliere insieme il candidato presidente, senza imposizioni. A sostegno del sistema scolastico italiano e delle materie STEM per le donne in particolare, il tour del Polibus tra Puglia e Basilicata. Questa mattina ha fatto tappa Matera. 14 tappe, 12 città tra Puglia e Basilicata, 14 scuole superiori, circa 2000 studenti e studentesse, 700 chilometri in nove giorni, su un bus laboratorio, itinerante e a due piani. Il Polibus, su iniziativa del Politecnico di Bari con scuola attiva Onlus, ha fatto tappa anche a Matera l'Istituto Tecnico Pentasuglia, un progetto a sostegno del sistema scolastico italiano, nel contrasto alla povertà educativa, con una particolare attenzione alle donne e alle materie scientifiche. Questo progetto ha in realtà molteplici obiettivi. In primis, chiaramente, noi giriamo per portare l'orientamento per il Politecnico di Bari direttamente nelle scuole. Quindi vuole essere un modo per dare a tutti la possibilità e poter avere questa opportunità di conoscere le attività del Politecnico di Bari e quali sono le attività che loro fanno all'interno di questa ottima università. Dall'altra parte, è anche un modo per rivicinare tutti i ragazzi e soprattutto le ragazze alle materie STEM, materie che in questo momento sono sempre più importanti per la società, per il progresso e per quello che facciamo tutti i giorni. Siamo abituati ad associare la donna a determinati ruoli. Ormai penso che questo non deve più esistere, quindi bisogna essere super consapevoli del fatto che ormai la donna può anche svolgere lavori che prima venivano attribuiti esclusivamente al ruolo maschile. Per quanto riguarda come superarlo, secondo me i genitori sin dall'inizio. Anche le ragazze possono giocare Lego, anche le ragazze possono appassionarsi ad un computer. Io giocavo con i Lego, sono ingegnere meccanico. Ci sono ancora poche e pochissime donne. Nel mio corso di magistrale eravamo in due su 50. Io mi occupo di pressocolate. In azienda sono l'unica in un reparto di 200 ingegneri uomini, quindi il divario c'è tanto, serve informazione. Un'occasione per scoprire le tecniche di realizzazione delle maschere di carnevale, ma soprattutto per conoscere e quindi custodire un patrimonio dal valore inestimabile, ad Aliano il laboratorio maschere del carnevale storico proposto dal comune. Ripristinare senso nella comunità, in particolare nelle nuove generazioni, di una delle tradizioni più antiche e più importanti della storia lucana. Questo è l'obiettivo del laboratorio maschere del carnevale storico di Aliano, proposto dal comune nel cartellone 20 dei festeggiamenti per il 2024, che ha coinvolto gli studenti delle scuole. Un'occasione per gli alunni per scoprire le tecniche di realizzazione del cappellone e delle maschere, ma soprattutto per conoscere e quindi custodire un patrimonio culturale e antropologico dal valore inestimabile. All'interno del carnevale storico di Aliano abbiamo previsto anche quest'anno e gli anni scorsi dei laboratori per far capire soprattutto alle giovani generazioni e coinvolgerle il mondo della scuola in primo piano, i bambini della scuola elementare, della scuola media, per far capire come si realizza sia il cappellone, sia la maschera del carnevale storico di Aliano, compreso tutti gli ornamenti a corredo della maschera del carnevale di Aliano. Un patrimonio sicuramente di un grande valore storico, antropologico, che va preservato e quindi noi dobbiamo mettere in campo tutte le azioni possibili e immaginari per non far perdere questa bellissima tradizione locale, ma inserita in un contesto della nostra regione. Nella seconda parte della mattinata spazio la presentazione del libro La Festa dei Semplici, con collettivo Zik Zik Atelier Bizzarro e Francesco Buccarelli e a cura di Natural Copp, un racconto fotografico con illustrazioni e testi che esaltano le peculiarità del carnevale di Aliano. La pubblicazione nasce come primo numero di una collana che è andata avanti, sui carnevali ma non solo, sul folklore, sulle feste tra cristiano e pagano del meridione. Su Aliano avevamo già dei contatti, conoscevamo già alcuni dei paesani, quindi siamo riusciti a entrare molto in confidenza anche con tutta la parte di preparazione delle maschere, ci hanno mostrato tutto quanto il pre e questo è stato per noi la cosa più interessante, scoprire poi come si costruissero i cappelloni, quale fosse l'origine attraverso Peppinuzzo, che è ormai una star ad Aliano, lo conoscono tutti. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, arrivederci.